Urbino, 13 febbraio. Questa è la condizione dei terrazzi in alcuni condomini della piantata. Come vedete la neve raggiunge in alcuni punti oltre i due metri e mezzo. Questi terrazzi sono grandi più di 50 metri quadri. Sotto ci sono appartamenti. Ogni sala di ogni appartamento ha sopra la testa uno di questi terrazzi. È praticamente impossibile liberarli perché a fianco e sotto di questi terrazzi ce ne sono altri esattamente uguali. Quindi buttare la neve di sotto o di fianco significherebbe caricare i solai dei vicini di altro peso. Quello che ci chiediamo qui è se queste strutture possono reggere una situazione del genere. Abbiamo provato a contattare i vigili del fuoco ma erano impegnati giustamente in cose ben più gravi nei due giorni passati. Però adesso col fatto che la neve diventa più pesante con l'alzarsi delle temperature, la cosa diventa abbastanza preoccupante.